Andrea Zenga lascia tutti a bocca aperta con la sua confessione piccante fatta nella casa del grande fratello Vip. Andrea Zenga dopo le rivelazioni su suo padre assente da sempre nella sua vita lascia tutti a bocca aperta con una confessione shock. Si lascia andare un segreto a lui rosse. I coinquilini della casa del grande fratello Vip a bocca aperta e anche i telespettatori attoniti. Zenga che fino ad ora si è contraddistinto come un ragazzo molto timido e introverso si è lasciato andare durante il GF Vip Light condotto da Tornaso Zorzi. Non solo prove con le quali gli inquilini della casa di Cinecittà si sono dovuti cimentare ma anche con una sorta di gioco simile a Obligo Verità che riguardava proprio le performance sessuali. Tutto ci si poteva aspettare tranne quello che Zenga ha rivelato a tutti. Leggi anche Andrea Zenga Shock, l'abbiamo fatto in 13 nel corso del GF Late Show, i Viponi così come li ama chiamare Alfonso Signorini, hanno dovuto abbassare la guardia e raccontare un episodio passato che riguarda la loro vita sessuale. Grande interesse da parte di tutti e massimo stupore con la rivelazione di Andrea Zenga. Chi l'avrebbe mai detto che il figlio del portiere dell'Intere della Nazionale era capace di arrivare a tanto? Non sono mancati gli argomenti piccanti nel corso del dibattito ma quello di Zenga è stato tra tutti il più infuocato. Leggi anche il giovane Gefino ha rivelato di aver partecipato a un'orgia con altre 13 persone. Un rapporto molto particolare con altri nove uomini e quattro donne. Samantha De Grenet, stupita più di tutti, ha esclamato, hai partecipato a un'orgia. Confessione piccante che ha lasciato tutti increduli come anche i telespettatori. Sui social ed in particolare su Twitter sono partiti i commenti e le illazioni ed il video è diventato virale in pochissimo tempo. Grazie. Grazie. Grazie.